eee bello a tutti ragazzi io sono cd17 e oggi do il bellissimo animal crossing pocket camp ok ragazzi bentornati a questo titolo vi voglio avvisare nel momento che carica che mi vedrete in un posto tutt'altro che verso penso eh non so se sono a campeggio in un altro posto comunque vi spiego se sono nel posto in cui penso anche perché sono in quel luogo perché no che sono a campeggio non so dove ho lasciato comunque ragazzi volevo dirvi che come vedete non c'è più qua ci sono specie rare o un signore perché oggi andrea sicuramente adesso ok allora volevo dire una cosa importantissima io negli ultimi giorni sul senso di livello penso del d'amicizia qui quello che avete voi in alto ad es a sinistra scusate a sinistra qui ho detto potrebbe essere qualcosa ok come vedete ragazzi ho cioè non come vedete ho se voi vedete in alto nella mappa in alto ci sono quattro una con la cascata una con una specie di scuola una con poco poco parte poi quella che c'è tipo l'ambulanza ok da parte a quella della cascata quindi a destra certamente qua è la scuola per gli arredi però oggi non devo andare lì con voi volevo certamente beh in futuro vi farò vedere ma andare qua a valle ventosa perché sto cercando di fare delle sfide sere come sempre non chiesta qua chi c'è ecco qua la mia cara a marina ehi ma sbaglio o non ti ho visto prima ciliciassette bene puoi chiamarmi a marina in campi più amici hai e più ti diverti ci vediamo ciliciassette ok c'è una amicizia ah beh si serve a fare qualcosa ecco prendi dicendo a quasi molto amicizia tutto che cos'è una generazione ce l'hai fatta ti sono divettrice arf arf è una cagnolina questa è un cane femmina siamo gentili come con me anche se ci conosciamo da poco sei una persona niente ma lo ammetto ok bene adesso qua uh ce li ho anche queste ehi tu sei ciliciassette ecco prendi facciamoci ancora l'amicizia che siamo le farfalle e gli insetti ma dai non avrete dovuto ciliciassette però non mi dispiace che tu l'abbia fatto come te la cavi a cantare io non me la cavo e basta ecco perché mi vado a questa idea geniale cantare per un pubblico di insetti forza G7 unicite al coro abbiamo un pubblico molto caloroso non voglio copyright gli insetti non si lamentano mai di come canti vai con i do di petto meglio che non metto il volume ma dai sa che devo proprio ringraziarti amico mi hai dato un grande aiuto arf arf ok un po' non avrò bonus non avrò bonus infatti non so che è il bonus perché quando c'è nelle linee dell'amicizia quando c'è maniera con il regalo o anche queste cose ti serve qualcosa arf arf ecco qua adesso qui ci sono non preoccupi di questa pensione con un punto scammativo ma dai non avreste avuto ciliciassette però non mi dispiace che te l'abbia fatto ok beh grazie arf arf sei una risorsa ok bene allora come va c'è 17 allora accortami qualcosa non ti stressare puoi prendere la tutta frutta che vuoi tanto poi cresce e prende che sia sì che hanno fegato si fa per dire ovvio oh l'avremo ci sarà seguito non avrò bonus perché non ho quello ok ok bene allora adesso vi ho un po' su qualcosa a dire ehi tu sei 17 vieni al mio campeggio vuol davvero che venga al tuo campeggio evviva beh grazie 17 però ecco sai cosa vorrei davvero che ci fossino al campeggio qualcosa del genere ah invece al campeggio cosa è il migliore di un campeggio adatto a proprio stile succedimento ordine alla fabbricazione di arrede che non hai quindi la fabbrica ah incontro con questo personaggio se fate il vostro livello di amicizia a tre o più allora ragazzi io direi che adesso scusate se vedrete un po' di qua e di là però ragazzi per non dare magari fastidio metto in pausa il video perché devo fare lo screenshot per ricordarvi un po' le cose ok ragazzi quando tutto quello che ho chiesto è pronto invece di cercarmi diciamo che non mi piacerebbe e sentirti arf arf ok ragazzi allora prima di cominciare con tutto allora vediamo un po' se cosa avrò uno due uh si un dolce d'argento bene e ritira tutto quindi saldrò di una tappa mie stelline bene qua novità e qua nient'altro ok ragazzi ferma apposta ritira tutto ok qua niente qua ho sempre quella cosa là che però non so di cosa boh boh allora mappa ok e andiamo a al mio campeggio non so quanto video quanto giocherà questo prima comunque ragazzi l'ho video tardi quindi scusate 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 scuola perdonatemi allora come sempre ragazzi serve un po' allora disponi allora aspettate ragazzi aspettate ragazzi così faccio video togli tutto togli tutto ok qua sicuramente ci vuole una tenda disponi l'unica tenda che ho è questa qua di livello 1 dai spero che vada bene ok poi indietro allora ragazzi subito vediamo un po' ah sono in gallega lampada design lampada design vediamo un po' se ho lampada design no non ce l'ho ragazzi quindi andiamo a ok vediamo un po' perché ragazzi io ho meno una bromelia vediamo un po' se ho bromelia è una piante ok aloe tubigliano rosso cisprimato tubigliano corallo no non ce l'ho questo qui non so cos'è ma devo non ce l'ho in futuro quindi non ce l'ho credenza design credenza design è un divano niente ragazzi non ce li ho questi cioè sono povero chitarra elettrica perché tu stai ama ti piace la musica la chitarra elettrica dov'è che posso fare la chitarra elettrica ragazzi qua comunque non ce l'ho non ho niente ragazzi so fa standard perché standard spero di avercelo so fa country ma come deve essere so fa standard non ce l'ho niente ragazzi quindi salviamo e visto che tutto qua così andiamo sulla manata fabbrica per cercare subito una lampada design allora su per il campeggio certamente ci modello non posso cercarlo perché mi serve da cercare perché ragazzi io giuro che ce la io 20 trovato è una su preferiti quindi subito informazioni si posso antiprima è un sbagliato no sbagliato beh comunque si è promiglia giusto trovare una promiglia si 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 cosa è questa qua un po si posso ordinare che fa beca inizio ok grazie mille grazie mille chitarra elettrica ok ragazzi si 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 informazioni se posso subito ordinarla no quando dovrebbe arrivare ragazze uscire anteprima così vi dico anche quando è che dovrebbe arrivare e poi ci salutiamo per questo video che è tutto perché sono troppo lungo ovviamente fabbrica da pochissimo ragazzi da pochissimo dovrebbe arrivare ragazzi mentre avrebare 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 Scusa Ok fatto E così ho anche la promiglia Ragazzi Benissimo Sono felicissimo Allora Scusami ma ti devo saltare Un'altra volta Scusami Ragazzi Ancora scritta sopra Ok è scritta Non tocco più ragazzi Non so quanto Ma come sempre ragazzi Bisogna che c'è anche l'inizio della scuola Magari bisogna video più corti E altri più lunghi Così ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Sì il video vi è piaciuto Ragazzi mi raccomando Mi piace commentare Condividete Il canale Attivate la campanellina Seguite su Instagram Chiocci La cd 17 La basso Y La basso Officine Ragazzi Un bacione E al vostro cd G7 È tutto Ciao Ragazzi Ciao Ciao